allora raga benvenuti da jumbo in un nuovo video questo non sarà un video come al solito io ragazzi questo qui sarà un video di due chiacchiere durerà poco e spero che comunque vi piaccia per quello che cioè non è che vi piaccia perché non piace neanche a me quello che sto per dire però ragazzi io sono veramente stufo per un fatto che mi dà un sacco fastidio cioè secondo me ragazzi mi sto anche per mettere a piangere perché è un video comunque difficile da dire e per come la penso io ragazzi io oppure io sono una persona umana a me mi dà un sacco fastidio quando la gente parla e non sa neanche le cose ragazzi io il fatto che la gente mi parla ragazzi dietro ma per fatti di successi passato che io pensavo che comunque fossero lasciati alle spalle per un per un semplice motivo che pure io ci sto male perché pure io sono una persona umana io ripeto io come dite voi faccio schifo fare i video faccio schifo fare questo ragazzi io ho aperto il video per un motivo ho aperto il video su canale instagram per un motivo fare ridere e far ripassare la giornata bella a me non mi interessa diventare famoso o fare le visualizzazioni o fare il resto delle cose a me non mi importa proprio io ho fatto il canale per strappare un sorriso e fare ridere le persone a me non mi importa sinceramente di stare lì c'è se a me ragazzi a me piace fare video io lo faccio per farvi divertire a me non mi interessa proprio cioè diventare famoso o cioè non mi importa perché anche se faccio un esempio sul mio canale youtube ho 37 iscritti per me i 37 iscritti che ho non sono iscritti sono come una famiglia ragazzi io a me non mi importa proprio se devo stare qui a perdere te se io non mi piacesse fare video non sto qua a perdere tempo porca troia a montare un cazzo di video o fare un video di 24 minuti su cazzo fifa e non ci so manco giocare io lo faccio perché mi piace io penso di anche se faccio due tre stronzate da far ridere così o il fatto anche quando vado in giro e mi sento parlare ha fatto questo ha fatto quello magari con delle storie vecchie di 60 anni o o magari gente che va a dire ho tipo un mio migliore amico come fa uscire con una persona come me cioè ragazzi pure io sono una persona c'è il fatto che ho sbagliato in passato non vuol dire che adesso sono uguale in passato per me tutte tutte le persone possono sbagliare pure io posso sbagliare perché se no non sarai al mondo poi ragazzi io sono così per un motivo per quello che ho sofferto da piccolo quello che ho sofferto mia sorella non è che siamo così perché ci va anche mia sorella è così ma non è che lo facciamo apposta cioè se lo facessimo apposta saremo dei coglioni noi lo facciamo perché ormai il carattere ci è diventato così non è perché lo facciamo perché ci va cioè se lo facessi perché ci ci va non ci vorrei voglia a parte che ho deciso ragazzi di registrare sto video non per essere consolato o amareggiato o magari mi scrivete nei commenti o poverino fai finta qua ragazzi non faccio finta perché ne ho parlato anche con il mio migliore amico non ne faccio finta non ne faccio finta e non ripeto non è che perché piango perché voglio fare più visualizzazioni a me ragazzi non mi importa mi importa fare un video divertente dove mi strappo un sorriso se no ragazzi non starei a perdere tempo 24 ore su 24 o fare il video con mia madre in cucina se non me ne fregassi niente o montare i miei video ragazzi il mio lavoro io lavoro in cucina 24 ore su 24 se non mi fregassi niente starei lì a montare un video oppure su instagram fare quei video e sparare qualche cazzata insieme poi ripeto ragazzi il fatto di quando io non ci sono parlare dietro o dire al mio mio amico come fa uscire con una persona come me ragazzi ripeto io sono una persona umana posso sbagliare pure io non lo so io ragazzi sono fatto così cioè non è che io sono sono mogoltao perché sono così io sono così punto e basta cioè non è che io cioè io adesso sono cresciuto ragazzi sono diventato zio cioè io zio io ho sempre detto a mia madre quando ho anche a mia sorella l'ho sempre detto io spero che mio nipote non nasca come me nel senso che non faccio i miei stessi errori non è perché io magari faccio magari faccio del male a una persona e nel senso retorico e e ci rido su ci scherzo così ragazzi ci sto male pure io cioè quando è successo alcuni fatti ci sto male pure io cioè non è che io faccio un video così a cazzo di cane o con un canale litico con una persona quando una volta litigato con un altro mio migliore amico ci sono stato male non è che io sono stato lì allora bella lì come cazzo fa ad essere il tuo migliore amico cioè ragazzi il fatto che anche rimangate cose che sono passate nel passato e parlate e non sapete un emerito cazzo di minchia non parlate neanche perché la gente fa male cioè a me fa male perché devo essere accusato per cose che la gente parla e non sa neanche cioè io non lo so neanche perché voi cioè alla fine io ragazzi per trovare gli amici o magari farmi degli amici mi sono fatto un mazzo così ora non avete idea che cazzo vuol dire quello che io ho sofferto mia sorella ha sofferto io ripeto lo faccio sto video non per essere compiaciuto o per essere detto poverino stai piangendo no io lo faccio solo ragazzi perché voglio smettere io non posso uscire di cioè andare in un posto e o vado a carpi sempre dei miei amici e sentirmi dire questo quello quello questo ma non parlate se non sapete le due le storie parlate magari conoscendo una parte della nessuna ma l'altra non la conoscete e giudicate direttamente una persona così è sinceramente sbagliato perché perché a me dà fastidio mi dà un sacco cazzo di fastidio e ripeto ne ho parlato pure con il mio amico cioè se non mi credete basta che vi faccio vedere le chat e ci credete che mi dà fastidio cioè il mio amico quella volta lì che siamo usciti mi ha dato fastidio una cosa mi ha detto vieni un attimo siamo andati ne abbiamo parlato però questo si tratta di essere onesti se avete problemi scrivetemelo e basta ragazzi ripeto io ho sbagliato tutti sbagliano ma il fatto è che sbagliando si impara non penso di ragazzi la gente che mi conosce sa che sono deficiente lo sanno tutti che io sono un po' matto sono deficiente quel cazzo che volete però ripeto sono anch'io una persona umana cioè non lo so poi fai schifo a fare i video qua ragazzi io non obbligo nessuno a guardare i miei video non obbligo nessuno 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 cioè non date insulti a cazzo di cane se un mio video non vi piace non guardatelo e basta io lo faccio per ripeto per divertimento perché mi piace non è che lo faccio per magari per strappare un sorriso cioè io lo faccio per strappare un sorriso farvi divertire non penso di aver mai detto tu ti obbligo a guardare un mio video sei obbligato a guardare un mio video io non l'ho mai detto poi ragazzi ripeto li faccio sto video non per essere consolato o per per cose però ragazzi mi dà fastidio perché in tutta la mia vita ho sbagliato sì perché sbagliando si impara sbagliando ad essere persone umane però io ho sbagliato ma nel senso no perché perché ragazzi sono nato con un carattere così io non è che sono nato allora sono nato stronzo allora devo farlo stronzo con tutti sì sono un po' come dire un po' ritardato quello che volete cioè però ragazzi se uno mi conosce veramente per quello che sono come i miei amici loro capiscono quello che sto dicendo perché ci sono gente che mi conosce e mi tratta come persona che sono cioè un amico uno con cui passare il tempo non è che sono io il coglione magari su instagram arrivate io conosco delle persone le seguo per conoscete un fatto così a cazzo di cane e non ciao mamma non scrivi ciao neanche ti cagano o magari scrivi una persona vado sui diri scrivo una persona a ciao non ti parlo per il fatto successo tale tale cosa ragazzi non parlate se non sapete le cose cioè a me dà fastidio cioè se a me vabbè dici questo non capisci un cazzo chi se ne frega però a me mi dà fastidio ragazzi mi dà un sacco fastidio non è perché in passato io se tornassi indietro molte cose non le rifarei non le rifarei proprio molte cose molte cose mi sono pentito pure io di farle ragazzi io ho problema di scatto di ira di rabbia se mi incazzo non mi controllo io vi dico picchiato mia madre ragazzi picchiato mia madre una volta e se tornassi indietro non lo rifarei proprio cioè io non lo farei proprio non uscirei proprio ma non è perché sono io così ragazzi sono andato con un carattere diverso da dal solito cioè poi ora che ho cominciato a fare video ho cominciato a fare le cose cioè con i miei amici abbiamo fatto la challenge che loro mi dicevano cosa fare per tutta la giornata cioè mi sono divertito raga perché alla fine uscire secondo me ma perché comunque mi trattano come la persona che sono non perché allora perché qua perché i soldi ho ad in giro offro mi trattano per una persona che sono cioè dico oggi un mio amico mi ha fatto un piacere ragazzi io dopo un giorno dopo glielo ricambio ma perché sanno che sono onesto sanno sanno che comunque ci tengo all'amicizia è per questo che io dico magari prima di giudicare una persona conoscetela ragazzi io dico solo questo voi adesso stacco perché non ho più voglia di fare il video anche se non so neanche quando lo vedrete ragazzi perché veramente non ce la faccio ragazzi voglio solo di smetterla di parlare smetterla di dire cose che magari non sapete o su di me o su o su o su qualsiasi persona ma io parlo anche in generale di perché se uno mi conosce veramente per quello che sono non non è così non è così come voi pensate che io sono ripeto anche per il fatto di video io faccio video per strappare un sorriso e divertirci tutti insieme io grazie a un mio migliore amico a meno lui c'è sempre per me e infatti lo ringrazio tantissimo non faccio nomi anche quando ho parlato delle altre cose non faccio nomi perché non voglio mettere in mezzo delle persone però grazie a lui ho capito tante cose e sono molto felice di averlo come amico perché comunque c'è sempre stato e anche se magari alcune volte mi ha litigato per banalità però abbiamo risolto non che ci sta gente dietro che insulta a me o insultava a lui non ci sta ragazzi no perché a me mi dà fastidio perché se uno deve parlare deve conoscere i fatti veri come sono non ascoltare un fatto poi vai in giro e giudichi una persona non è così a me ho deciso ragazzi ripeto di fare sto video non per essere consolato ma di chiedere basta ragazzi di parlare cose che sono successe 30 anni fa io non ne ho voglia non mi sembra neanche non mi dà fastidio non è il fatto quello ripeto ho sbagliato sì ma sbagliando si impara ragazzi sono pure io una persona umana pure io ci soffro pure io soffro per delle cose che ho sbagliato pure io però ragazzi cerco sempre di rimediare non è che io sono nato handicappato porca troia sono nato comunque con un cervello sono nato comunque con un cuore io ho pensato sempre di fare tutte le cose con il cuore anche quando uscivamo io ho ragazzi offro non ho problemi di soldi non ho problemi di un cazzo ah io penso sempre prima all'amicizia penso prima agli amici a me dei soldi non me ne interessa ragazzi non mi interessa quello è un oggetto materiale io ragazzi ho fatto sto video per ripeto non per essere consolato e non per essere trattato come poverino a pianto qui e là no io ho fatto solo sto video per spiegarvi il motivo perché adesso magari deciderò cosa fare con con i canali deciderò cosa fare con tante cose adesso vediamo e ragazzi ci vediamo o se tornerò a pubblicare o se tornerò magari ci rivedremo qualche volta perché ragazzi facendo sto fatto qui mi ha dato un sacco fastidio e non so veramente se io continuerò o magari adesso vediamo ragazzi magari continuerò a pubblicare o magari no adesso in questi fino a lunedì non credo che usciranno video perché proprio non me la sento proprio sono tre giorni che sto male e non riesco a smettere i ragazzi ripeto di piangere e di starci male comunque ne parlo sempre ogni volta con un mio amico e ripeto non per essere consolato non per essere trattato come poverino pianto no io ho fatto sto video ragazzi li prego per spiegarvi alcune cose dunque ragazzi spero che comunque sto video vi sia piaciuto e anche se a me mi ha fatto veramente schifo cioè nel senso farlo non pensavo mai di arrivare a fare questo video non pensavo mai di arrivarci a farlo e spero che sarà anche l'ultimo video che farò di questo genere e perché a me veramente mi ha dato un sacco fastidio fare questo video io l'ho fatto perché voglio che a meno voi capite che è meglio conoscermi per come sono non per come parla la gente e anche di provare a conoscermi perché poi alla fine non ci entri di male ragazzi a fine sono anche una persona magari sono un po' strambo un po' confusionario un po' più squilibrato però fidatevi che se mi conoscete capite il fatto perché ripeto come i 37 iscritti sul mio canale youtube io non li considero iscritti li considero come una famiglia per me comunque regà adesso vado perché non ho proprio voglia di continuare questo video e non c'ho proprio voglia di continuare a fare questo video ci ci vediamo poi se pubblicherò dai ragazzi vado perché non ho proprio voglia grazie a tutti